Mi porterà, parvi a Tito, il mio cuore per sempre se vuoi, tu dami l'amore che non passa mai, rimani con me, cantiamo nel mondo insieme, la tua presenza sarà, non c'è il paradiso per l'umanità. Un attimo ci stiamo collegando. Un attimo ci stiamo collegando, un attimo ci stiamo collegando, il mio cuore per sempre se vuoi, tu dami l'amore che non passa mai, sempre l'inizio, 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 l'inizio. C'è ovviamente un attimo a tutti noi che ci vanno, e un attimo a tutti noi che ci vanno a fare la settimana, i nostri ascoltatori, perché, la mia vita, la mia vita, l'inizio, la mia vita, trasmettono anche questa cosa, proprio da questo luogo di grazia, luogo di impressione, luogo di cambia vita, luogo di tantissime grazie, Quindi portiamo ancora un po' di pazienza e fra qualche istante saremo collegati con Međugorje e il Rosario. E mi guidi e mi senti a fregare e mi facendo la umidità. Ave, Madre, Ave, Madre, Ave, Ave. Ave, Madre, Ave, Ave. Sada ćemo moliti Krunicu Radio Maria, prenosi sve poste Radio Maria u svijetu i morate Krunicu idem uživio, a vas morio malčice pišine. Nel nome del Padre, del Filo, dello Spirito Santo. Ave, Madre, Ave. Il Signore Sijakon Vojni. Ego lito Sijeta. Predraga braćo i sestre, evo nas ovdje na brdu kazanja, na svetom mjestu gdje se naša Majka Maria ukazala. Sve vas pozdravljamo i šaljemo svoj blagosov i neka vam gospodin usliši sve molitve koje ste ovdje upravili njemu na svijetu mjestu. Ljubi šestri i brudni, vi begrušen si alle. Un biten Gott um den Segen. Un biten gott um den Segen. Un biten us an bedre Scheinung. Un zendan innen den Segen. Un biten vi si. Cari fratelli e sorelle, cari peleglini, con grande gioia e amore vi saluto tutti da questo luogo santo, la Collina delle Apparizioni, dove la Madonna appare ai sei veggenti esattamente 40 anni fa, in giorni 14.610 giorni. Con questo rosario, che reciteremo e preghiamo insieme, ringraziamo la nostra Madre Celeste, Maria Regina della Pace, per tutte le grazie e i doni che Dio buono e misericordioso ci ha fatto per suo tramite. La preghiera è un incontro gioioso e grazioso con un Dio che ci ama immensamente. Egli, come Padre misericordioso, ci ama in coraggia, si conforta e ci fortifica nel cammino della vita. Per nulla facile. Desideriamo che Dio voglia essere unito a noi nell'amore e nel bontà. La preghiera è la nostra gioiosa unione con Dio nella fede, nella speranza e nell'amore. È una vita vera e graziosa con Dio innamorato. Il Santo Rosario, una preghiera umile e potente, perfetta e miracolosa. Essa è un qualche cosa di divino e di sublime. Con ragione possiamo… E tutta questa giornata, la festa della Regina della Pace, donaci il tuo Santo Spirito affinché preghi noi ora. Ora, ci insegni a pregare con il cuore. Gesù, vogliamo pregare come tu hai pregato con tua Madre Maria e San Giuseppe. Vogliamo pregare racconti nell'umiltà, pie e saldi, devoti, cercando il Regno di Dio e facendo la sua santa volontà. Donaci un cuore che ami e combattisca i fratelli e le sorelle sofferenti e ammalati. Includiamo in questa preghiera tutti i pellegrini che hanno visitato questo santo logo di grazia e ammalati e coloro che si sono raccomandati nelle nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Adesso saluto a tutti il nostro caro Padre Francesco che vive qui in questo santo posto. Carissimi di cuore, pace e bene, pace e gioia, carissimi amici di Radio Maria, vi saluto con affetto e amicizia. Ci troviamo sul luogo della prima apparizione della Regina della Pace, in questo giorno così speciale in cui ricordiamo la presenza della Madre con noi da 40 anni. Da questo luogo di grazia vi promettiamo le nostre preghiere, nella speranza di poterci incontrare presto qui a Meggiugorie, dove in questi giorni sono arrivati moltissimi pellegrini e sacerdoti. Dal profondo del cuore vi auguriamo buona festa, buon anniversario, Dio vi benedica e la Regina della Pace vi custodisca sempre nel suo amore e nel suo cuore materno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Primo mistero della gioia. L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Dođi, Kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a Maria, milosti puna, Gospodinja je s Tobom, blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave Maria, vena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu. Ave Maria, vena di grazia. In una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E' beata con lei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Grazie a tutti. 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 Salve Maria, Maria, Dio, 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 Dio. Salve Maria, Dio, 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 Dio. Salve Maria, Dio, 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 Dio. Salve Maria, Dio, 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 Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in faše e lo pose in una mangiatoja, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Oce naš, koji jesi na nebesima, sveti, sa ime tvoje, dođi, kralje sto tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Omo Isuse. La vita ritorna dentro me, per sempre parlerò di Te, tutto Tu sei per me. Gesù, mio Signor, santo è il tuo nome. Gesù, mio Signor, santo è il tuo nome. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio, dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anche egli lo accolse tra le braća e benedisse Dio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevsto Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milost te puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljem plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Magnitì lui, vrea da nos e tu? Stva Maria, Manitì lui, vrea da nos e ti? Salve Maria Maria Salve Maria, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve Maria, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve Maria, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Salve Maria, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljena Ti među ženama 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 i blagoslovljena Ti među Buona tua vita, Isus. Il Dio il Dio, il Dio i il Dio. Slamo di Dio, il Dio il Dio. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Madre nostra, ti preghiamo di cuore, intercedi per noi, prega per noi, perché il Signore ci impregni della potenza del suo Spirito e della fiamma del suo amore misurato, perché anche noi possiamo aprire e preparare i cuori alla rispondere ad ogni stimolo della grazia di Dio. Preghiamo umilmente, prega per noi e tutti, affinché Tu, Dio Uno e Trino, visiti con la Tua grazia ogni casa di pellegrini, ogni famiglia, ogni cuore e tutti coloro che hanno bisogno di Te. Visita tutti coloro che sono malati e soffrono l'anima e nel corpo. Aiuta tutti quelli che si sono persi, in modo che possano tornare sulla strada Tua. Infranca tutti coloro che sono stanchi e appesantiti, che sono depressi e malati. Lasciali riposare con Te e confortali. Benedici i nostri bambini giovani e rimuovi da loro ogni tentazione ed ogni pericolo. Fa che rispondiamo valentieri alla Tua chiamata e fa che abbiamo tutto buon uso dei giorni della salvezza. Apri i nostri cuori a qualsiasi suggerimento della Tua grazia e sadisca dalla nostra gente la maledizione, blasfemia, infedeltà, immoralità. Tutti i peccati distruggono la salute del corpo e dell'anima. Possa, buon Dio, essere santificato il Tuo nome in ciascuno di noi. Gesù, si glorificato in ciascuno di noi, possa il Tuo regno di pace e amore e gioia e felicità venire alle nostre famiglie, ai nostri popoli. Maria, Madre Celeste, Regina della Pace, potente Avvocata, prega per noi affinché possiamo servire con gioia a Dio sulla terra. Nella speranza dell'eterna felicità nei cieli, tutti voi, santi, nostri potenti sostenitori, pregate per noi e chiedete la salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per incessione della pace. E tutti i santi, tutti voi, tutti che ascoltano questa nostra preghiera, Dio benedica, guarisce e salva. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Grazie, auguri. Buona festa.